E' un congresso al quale sono particolarmente affezionato perché io venne invitato a questo congresso quando ero proprio agli inizi della mia attività di comunicatore e divulgatore. E' un convegno che si distingue sempre per la serietà dei relatori, per il rigore scientifico e una casa editrice che ha pubblicato libri molto belli, l'ultimo dei quali di un mio collega giovane e bravissimo, il dottor Galassi, che descrive un mondo senza vaccini, questo terribile scenario e sicuramente per tutti sarà un'ottima occasione per scambiarci le opinioni, per confrontarci e per imparare qualcosa.